Se non siete stati su Marte vi sarete accorti che Brooks ha lanciato tre scarpe Max, quali prendo? Mentre il mio coniglio sta mangiando tutti i fiori dell'universo, suggerisco le Ghost Max 2 al podista amatore evoluto che cercasse una corsa molto stabile. Effettivamente è una scarpa reattiva grazie al DNA Loft versione 3 e vi consente di correre davvero anche tutti i lunghi maratoni. Ha un'altezza di 39 nel tallone mentre la Hyperion Max 2 ha un'altezza di 36 nel tallone e utilizza una mescola più reattiva, il Flash versione 2, che vi consente di correre davvero velocemente ed è pensata soprattutto per chi cercasse una velocità estrema senza effettivamente avere una scarpa super rigida. Il massimo del massimo, Glycerin Max, 45 mm nel tallone, mescola DNA Tune molto morbida ma al tempo stesso reattiva. Questa scarpa è secondo me adatta più per i lenti rigeneranti, anche se effettivamente potreste correre velocemente, ma suggerisco una delle altre due. Voi nel frattempo sei strong keep running, io vado a dar da mangiare il coniglio prima che torni mia moglie che invece ha visto che sta mangiando solo i fiori. Grazie a tutti.